Dispiaciuta e amareggiata, Germana Germani, direttrice tecnica dell'Armonia d'Abruzzo, rimanda alla Procura federale l'accertamento della verità per quanto riguarda i maltrattamenti denunciati della ginnasta siciliana Alice Aiello, che in passato militò proprio nell'Accademia di Chieti. La risposta della società teatina, chiamata in causa in questa pagina buia della storia della ginnastica ritmica, è arrivata ieri sera su Rete 8 nel corso della domenica sportiva condotta da Enrico Giancarli. Incalzati anche dal giornalista del centro Daniele Berardi, che sulle pagine del quotidiano ha approfondito la vicenda, la direttrice Germani ed Enrico Paolini, consigliere della feder ginnastica, hanno così replicato alle accuse mosse alla società. Sono ragazze minorenni, io mi relaziono con i genitori. Per noi è molto importante la salute psicofisica di ogni atleta. Un atleta sano, forte, porta un risultato eccellente. È normale che comunque il lavoro è finalizzato a dei risultati, quindi ci possono essere sicuramente degli episodi di stress, perché comunque stiamo parlando di adolescenti, di ragazze in crescita, però c'è anche sempre un rapporto continuo e costante con la famiglia. Però io mi chiedo al di là di quando uno decida di raccontare, di venire fuori, perché non è detto che sia così immediata la reazione. Ecco, la società si sente messa in discussione, sente di aver sbagliato qualcosa nella gestione di questa ragazza. Per le accuse fatte ci saranno dei luoghi con persone competenti in cui verranno discusse queste problematiche e queste accuse specifiche. Io come direttrice tecnica dell'Armonia d'Abruzzo ho iniziato nel 1996, ho avuto tantissime, ma tantissime ragazze che sono passate in armonia, tantissime. Credo di rispondere con questo, continuano ancora ad arrivare ragazzine. Voglio solamente lavorare e dare un messaggio positivo alle ragazze. Cioè, la ritmica non è solo quello, la ritmica è anche condivisione e gioia e sacrificio. Le ragazze imparano giovanissime ad affrontare una pedana, che dico sempre che quella pedana di 14 metri è una pedana di vita. Questo è il messaggio che io voglio lanciare ad oggi, perché stiamo vivendo uno spaccato della ritmica tristissimo e bruttissimo. Dire oggi che racconto una cosa del 2013 per, tra virgolette, come ho letto sul giornale, salvare le bambine che ci stanno adesso, se ne è ricordata un po' tardi. Mia figlia è entrata sette anni fa, se fosse come è stato detto da questa ragazza, starebbe dallo psichiatra. Si è aperta una discussione e anche una polemica, che non tiene conto molto del tipo di sport di cui si parla. Non è per tutti a livello agonistico. È una farsa dire che la ritmica è per tutti a livello agonistico. È molto selettivo, uno sport in cui per essere a questo livello si fatica moltissimo per anni. Quindi quando poi si dice, con questa facilità, che è strano che nella ritmica per esempio si badia al peso o si badia alla preparazione atletica, si fa, diciamo così, un discorso assurdo. Ci sono dei casi personali e tali dovrebbero rimanere. La federazione non ha detto che cambierà tutto perché va tutto male. La federazione ha detto che ci sono buone pratiche a cui bisogna fare riferimento per cambiare le pratiche non buone, per fare in modo che ci sia un salto di qualità. Dare alle società i servizi e le competenze specifiche che spesso le società poverissime non si possono permettere. Un dietologo, un nutrizionista, un medico, un fisioterapista, un mental coach e uno psicologo. Allora forse la federazione deve fornire questi servizi.